Questo è il ritratto della contessina Luigia Negroni Prati Morosini, presentato nel 1867 da un Francesco Hayez ormai anziano. I dettagli dell'opera, dagli intagli dorati e dal damascato della seduta, al lucente raso azzurro del vestito così vivo e reale, rappresentano la massima perfezione della tecnica pittorica di Hayez. A chi è rivolto lo sguardo intrigante della protagonista? Sembra che ci inviti a partecipare a un segreto. Troviamo un indizio sotto forma di un foglio dove leggiamo le parole «caro papà». Si direbbero rivolte a suo padre il conte, ma una strana somiglianza tra la protagonista e lo stesso Francesco Hayez, oltre alla lunga relazione sentimentale tra il pittore e la madre della bambina, ci indurrebbero a credere altrimenti, come se l'autore avesse voluto svelare il suo segreto attraverso quest'opera. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori